Un muro d'omertà dietro la latitanza di Michele Zagaria, un muro a lungo 16 anni, tanto che per stanarlo si è dovuto ricorrere all'utilizzo di sofisticate apparecchiature dell'aeronautica militare impiegate per rilevare fonti di calore umano in profondità e montate su un aereo della Guardia di Finanza. Ma ciò che lascia scioccati è la reazione degli abitanti di Casa Pesena che davanti alla casa al momento dell'arresto si sono affrettati a dire non siamo di qui, Zagaria non lo conoscevamo. Poi le grida contro la polizia e i magistrati, non siete nessuno. Qualcuno nel bel mezzo della piazza si è messo ad urlare oggi è una giornata di lutto, qui non c'è nulla da festeggiare perché Zagaria per noi c'era sempre, spiegano. Ci dava i soldi quando ne avevamo bisogno, il lavoro per i nostri figli. E colpisce anche quello che dice Laura, 18 anni appena, niente studio e niente lavoro. Addobba le finestre con le luci di Natale, pochi metri più in là dove Zagaria si nascondeva. Da oggi, dice, c'è anche da aver più paura. Qui, fin quando tutti sapevamo che c'era Zagaria, nessuno si azzardava a chiedere il pizzo ai commercianti a fare furti nelle case. Insomma, si stava sicuri. Da domani, boh, non so. Guai poi a fare domande davanti a casa dove si nascondeva il boss. Di fronte c'è una villa. Sul citofono il cognome Zagaria. Palme, Sharpen Kashmir, toni gentili. Una signora si affaccia e inizia ad urlare. Andate ad uccidervi. E giù, con gli insulti e con minacce, a chi prova a fare domande. Vattene, o guai a te. Definirla omertà è quasi riduttivo. A Casa Pesena, il giorno dopo, la cattura del boss, Michele Zagaria, non stupisce la richiesta fatta ai giornalisti. Scrivete che ci dispiace che lo hanno arrestato. Lo dovete scrivere. A noi non ci ha fatto nulla di male. Lepore, questo non lo doveva fare. Urla, un cittadino davanti al Bar Palma. Perché ha fatto ritornare Pisani, che anche lui è accusato in un'inchiesta della magistratura. Non è giusto. E mentre l'uomo pronunciava queste parole, diversi concittadini intorno a lui lo hanno applaudito. Poi la difesa, senza se e senza ma, di Zagaria. Lui era un nostro amico, ci stava vicino. Era un poveretto che lo Stato ha bloccato. Dunque, una latitanza coperta per anni, nascosta sotto la convinzione che qui, in terra di Gomorra, la criminalità organizzata abbia fatto più dello Stato. Eppure resta la speranza riposta in chi oggi a Casa Pesena non ci sta. Qui ci sono anche le brave persone. Ed ora solo una cosa. Chiediamo che lo Stato non ci abbandoni. Tra i cittadini che si definiscono onesti, oggi un pizzico di rabbia c'è. Lo Stato dice di aver messo a segno una vittoria. Non è così. E non è così perché lo Stato ha abbandonato questa terra oltre 50 anni fa. Ha fatto vincere per troppo tempo la Camorra. E questa sì è una grande sconfitta.